Gli operai sono già a lavoro per il montaggio delle luminarie e tutto sarà pronto per l'avvio delle festività natalizie fissato a Barletta alle ore 19 del primo dicembre con l'accensione di un grande albero in piazza Aldomoro. Poi sino all'Epifania sarà un susseguirsi di spettacoli, attrazioni, concerti e laboratori creativi disseminati tra centro e periferia della città. L'azienda che è giudicatrice del bando delle luminarie sta già allestendo tutta la città. Avremo questa particolarità dell'albero, mi dicono, essere sicuramente il più alto della Puglia ma l'azienda mi dice forse essere il più alto d'Italia in verticale all'incirca 30 metri, qualcosa in più. Avremo altre strutture giganti in giro per la città. Andiamo ad illuminare parti mai toccate fino ad oggi. Una città di Barletta come i Giardini dei Nistiti, il frontestazione, l'intiraria del castello, tutti gli alberi del castello. Quindi ci saranno molte più luminarie e avremo molti più spettacoli con il criterio che è stato adottato, condiviso con le associazioni, di distribuire la nostra disposizione e generare più spettacoli possibili sul territorio. Data da cerchiare in rosso sul calendario il 7 dicembre, quando sarà inaugurato il castello di Babbo Natale e sul lungomare Pietromenni avrà luogo l'accensione della tradizionale Fanova. Ma le attrazioni pensate per piccoli e adulti lungo tutto il periodo delle festività natalizie non finiscono qui. Puntiamo molto sugli allestimenti che ci saranno in Piazza Roma. Abbiamo ricevuto una proposta, la stiamo valutando di ruota panoramica, vedremo se sarà possibile. Ritorna dopo qualche anno, anche a grande richiesta, la pista di pattinaggio. La andiamo a collocare a Parco dell'Umanità e ci sarà anche lì un allestimento migliore rispetto a quello dello scorso anno. E poi tra i tanti avvenimenti ritorna anche la cassa armonica sul corso per un concerto dell'associazione bandistica durante il periodo natalizio. L'assessore Di Leo smorza le polemiche nate dopo che uno degli operai incaricati del montaggio delle luminari aveva temporaneamente legato una corda in corrispondenza di un foro presente sulla statua di Eraclio, mortificando l'immagine di uno dei simboli della città. Credo abbiate letto tutta la lettera di scuse che ci è pervenuta dall'azienda. È stato un errore generato da un operaio. Sì, siamo intervenuti, stiamo prendendo provvedimenti, è stata elevata una sanzione a carico dell'azienda. Stiamo facendo delle verifiche, completeremo le verifiche, vi faremo eventualmente sapere, ma riteniamo che non sia accaduto nulla di particolare, come già annunciato dal sindaco ieri.